Mentre Maika Benedicto ha fatto ritorno nella sua casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ancora il grande fratello spagnolo. E infatti i tre protagonisti del crossover del reality si sono già incontrati. Sappiamo già che il rapporto tra loro a Madrid si è fatto di ogni ora più intenso, tra baci e notti di fuoco, come le hanno definite i nuovi compagni di avventura. Hanno anche già un nome tutto loro, gli Shailenzo, e come sempre il pubblico è molto diviso, c'è chi adora questa nuova coppia che finalmente si è esposta e chi invece ritiene che sia tutto un bleth, un modo per far parlare di loro. Anche perché non va dimenticato che fino a qualche giorno fa Shaila era legata a Vier. Il pallavolista non sa niente di Lorenzo e Shaila anche se ha dei sospetti. Come gli altri Jeff Ifney crede siano stati eliminati ed è rimasto molto male quando lei lo ha di fatto scaricato. Dal canto suo la ex velina è stata sincera con Lorenzo e, nel bagno del gran hermano, gli ha raccontato tutto quello che ha fatto sotto le coperte con Avier durante la loro permanenza al grande fratello. La regia in quel momento inquadrava altri due inquilini, ma il microfono di lui in lontananza era rimasto aperto, riporta il sito Bici. Nel video si sente proprio Lorenzo che dice a Shaila, le cose sotto le coperte, quelle fatte con Avier, se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene. Peccato che invece è proprio quello che ha già fatto. E poco dopo sempre Lorenzo aggiunge, così vuole vittimismo. L'audio è disturbato, ma l'allusione è chiara. Lorenzo non può sapere che Avier ha già spoilerato a tutti cosa ha fatto sotto le coperte con Shaila. Ossia, abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto e mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Giulia e Giglio e lei questo se ne accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei. Per non perderti i nuovi video.